Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 1 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Giovedì sottotono, solo Venere vi capisce. Tra tutti gli astri presenti in cielo solo Venere vi capisce e vi sostiene con un sestile rassicurante, invitandovi ad aprirvi e a confidare le vostre pene solo a chi è davvero in grado di comprendervi. Qualcuno magari che sta passando attraverso la stessa esperienza, mal comune, mezzo gaudio, sentenzia il proverbio. Non è escluso che se per un po' vi piangerete addosso a vicenda, poi finirete con l'abbracciarvi, scoprendovi all'improvviso innamoratissimi. Casa e famiglia restano un punto di riferimento da cui trarre sicurezza anche materiale, oltre che emotiva, in caso di necessità papà e mammina non vi negheranno un piccolo prestito. Episodi sfortunati che impongono riflessione e una puasa, alcuni progetti potrebbero abominciare o non trovare la strada giusta per realizzarsi. La fortuna non è dalla parte vostra e anche l'amore ne risente. Compromissioni di amicizie o incomprensioni. Non lasciarti disorientare da imprevisti in casa e non trascurare il riposo. Eccellente accordo con i figli o parenti stretti. Qualcuno vi sta pensando, non sforzatevi di capire chi poiché è difficilmente indovinerete. Sappiate chi ha intenzione di rifarsi vivo presto. Cercate di essere più espansivi, siete fondamentalmente timidi e introversi in questo periodo. Cercate la compagnia degli amici e delle persone che vi garbano, ma non restate soli ad annoiarvi. Possibili sorprese in arrivo, fate in modo da accoglierle soprattutto in funzione del vostro futuro. L'ambiente di lavoro non è l'ideale, oggi potrebbe essere particolarmente noioso. Oggi buone nuove sul fonte di vecchie amicizie che tornano a farsi vive presentandosi a voi come se il tempo non fosse passato. Giornate in lieve disordine a causa di un malumore che serpeggia da un po' in voi. Preparatevi a reagire e a coordinare la vostra ripresa. Non abbiate paura di affrontare una situazione difficile in cui vi sembra di soccombere, mettete mano a tutta la vostra diplomazia e con educazione evidenziate le vostre ragioni e fatevi valere. Non dovrebbe essere difficile far ragionare gli altri. Buona intesa con cancro e gemelli, da un ariete poi avrete un aiuto insperato per una questione che vi sta a cuore. Avete buone idee ma tendete a concretizzarle poco, il vostro talento è indiscusso, ma vi state abituando troppo a farvi trainare da altri. È giunto il momento di essere voi trascinatori entusiasti dei vostri stessi progetti. Un gruppo astrale d'eccezione vi mostra diversi corpi celesti, non tutti, in angolo positivo a rallegrarvi la giornata. La congiunzione del pianeta Mercurio con Marte e Venere non congiunta, tutti nel segno amico del Capricorno vi inviano influssi benefici per quel che concerne la forma fisica, la salute, la bellezza, la capacità, infine, di rendervi amabili in qualsiasi ambiente vi muoviate. A ribadire il momento particolarmente fortunato ci pensa Saturno che è ospitato nel buon amico segno dei pesci e vi dona l'intuito e l'intelligenza per comprendere ogni situazione vi possa toccare da vicino. In famiglia, per esempio, riuscite a cogliere con acutezza un aspetto che vi era sfuggito nel carattere di un suo componente. Giornata no, con la luna imbronciata in dodicesima casa e il sole impietoso in quadratura. In famiglia o tra vicini un chiarimento si impone e di sicuro non vi tirerete indietro, poche parole ma ben dette tratteggeranno verità irrinunciabili anche se spiacevoli. Scontenti allo specchio, che giudicate impietoso, rivelatorio di tutti gli inestetismi e i tratti del vostro volto che non vi piacciono. Vi sbagliate, sono particolari, personalissimi, spie inequivocabili del vostro carattere deciso, perspicace e molto magnetico. Amore ed eros. Intimo, anche se scarno, il dialogo di coppia, vengono a galla sentimenti nascosti e piccoli segreti di cuore, che rivelano sentimenti ma anche qualche scheletro nell'armadio, tutte le famiglie ne hanno qualcuno, ora finalmente ci vedrete chiaro. Se fate parte ancora della schiera dei singli in cerca dell'anima gemella, dovrete solo sforzarvi un poco e proporvi a chi vi ha toccato il cuore di recente. Non troverete resistenze. Irresistibili, brillanti, vivaci, dotati di sex, appeal, così vi vogliono i numi planetari. E specialmente luna e i venere, splendide oggi. Lavoro e denaro? Tutto da chiarire, innanzitutto con voi stessi, se tenere il posto di lavoro costa un compromesso preferite mollare e rimanere al verde piuttosto che venire a patti con la vostra coscienza. Confidatevi con un collega nella stessa barca, l'unione fa la forza. Incassate l'apprezzamento dei superiori, specie se siete nati nel mese di novembre. Perché una situazione lavorativa complicata, che altri hanno deciso che va archiviata, viene da voi risolta con lucida determinazione e spirito infaticabile. Benessere. Finalmente il risultato di un test clinico che vi ha fatto dormire male parecchie notti, nessun problema, state piuttosto bene, perciò le vostre paranoie ipocondriache potete congedarle e mandarle a? Dormire. Denaro? Quali sono i numeri, in base alla combinazione astrale odierna, che possono favorirvi al gioco se ne avrete voglia? Il numero 4 senz'altro, poi il 20, il 12, il numero 10, infine. Per lei, le vostre falle finanziarie dipendono da una cattiva gestione, ma è inutile piangere sul latte versato, cominciate con i buoni propositi da oggi, spese voluttuare solo quando si può. Per lui, il romanzo psicologico è il vostro conselor personale, attraverso le vicende del protagonista, le sue inquietudini e i suoi errori, risolvete i vostri. Squarci illuminanti sul passato. Colore delle emozioni, caramello. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.